un pochino più temibili e organizzati. Detto questo, per me è un orgoglio compiegliere queste battaglie di libertà e questi principi con una comunità straordinaria come quella della Lega a cui sono convinto la tua esperienza e la tua propietà porterà solo un grande valore aggiunto. E ne sono assolutamente convinto e ti ringrazio per la risposta di quest'anno.